In tema di alimentazione esiste, per quanto mi riguarda, una regola che vale più di ogni altra regola, in base alla quale non esiste un regime alimentare che una persona possa reggere in eterno. A mio parere l'equilibrio alimentare si basa sulla ordinata gestione dei disequilibri, per cui nell'ambito alimentare non ha senso vivere una vita di continue privazioni, perché una vita di continue privazioni non è sostenibile, non è sopportabile dal nostro cervello, non è sostenibile. L'alimentazione è un aspetto fondamentale nell'ambito di un percorso incentrato sul benessere, in quanto una cattiva alimentazione provocherebbe uno stop immediato nel raggiungimento dei tuoi obiettivi. Puoi allenarti quanto vuoi, puoi fare tutti gli sforzi che vuoi, quante volte vuoi, ma se mangi male, se non ti nutri bene, non otterrai alcun risultato. Mi collego per un attimo alla metafora che a me piace molto della macchina sportiva che c'è dentro di noi. Cosa succederebbe, immaginati per un attimo, cosa succederebbe se mettessimo dentro alla nostra Ferrari nuova fiammante un carburante diesel? Ovviamente il motore della Ferrari, per quanto perfetto, per quanto straordinario, si fermerebbe subito. Il carburante, come tu ben sai, è vitale per qualsiasi macchina. Quindi gli alimenti che ingerisci determinano inevitabilmente la qualità della tua vita. voglio spiegarti velocemente quella che è sempre stata la mia regola. È una regola molto semplice. Ho sempre privilegiato lo specchio rispetto alla bilancia. Non ho mai contato le calorie. Mi sono sempre basato e ho dato grandissima importanza alle mie sensazioni, a quando mi allacciavo i pantaloni, a quando mi allaccio i pantaloni, piuttosto che a quando mi peso. Perché è da quel momento lì, da come mi vedo allo specchio, da come sento gli indumenti addosso che capisco se ho esagerato o se sono stato rispettoso di quella che è una sana alimentazione per me. La verità è che nell'alimentazione deve prevalere quindi un sistema di autoregolazione e di autoconsapevolezza, è molto importante, che ti spinge a dosare quello che mangi e quello che mangerai il giorno dopo qualora per un attimo tu ti sia consentito un disequilibrio. Io ho degli amici che vivono a dieta da una vita, che vivono un rapporto ossessivo con la bilancia, pesano ogni cibo, 30 grammi di questo, 20 di questo, però incredibilmente non ottengono mai i risultati sperati. Questo perché? Perché secondo te questo accade? È molto semplice. La bilancia non serve a niente. La bilancia è un misuratore di quello che fai, ma non devi avere un rapporto ossessivo con la bilancia. Devi sapere che nel momento in cui parli di alimentazione, parli immediatamente di metabolismo. Il metabolismo, io dico sempre, è un'entità vivente. Il metabolismo ha un'anima, ha una memoria. Di conseguenza, se per assurdo tu tutti i giorni vivi in una dieta rigorosa ed estrema, non dimagrisci in eterno. Perché il metabolismo si siede, ovvero si abitua, si abitua a leggere un segnale, che è quello della quantità di apporto calorico e si stabilizza su quello e tu non dimagrisci più. Il metabolismo, come tutte le cose che possono abituarsi, va disorientato. Non va mai abituato, non va mai fatto sedere, come dico io. Per cui, bisogna avere una routine di sana alimentazione nella quale inserisci dei momenti fondamentali per il tuo cervello, che sono momenti di svago, dove tu puoi mangiare quello che vuoi. Perché l'importante non è, da un punto di vista ovviamente nutrizionale, il momento di svago. È come lo recuperi. Quindi, devi ricordarti che nel momento in cui ti consenti uno svago che è necessario al tuo cervello, contrai, come piace dire a me, forse sono dei ricordi anche presenti, però sono tuttora della mia attività imprenditoriale, contrai un debito con la banca del metabolismo. Debito che devi restituire. Ci vediamo al prossimo video. Enjoy!